Martin Luther King, un'icona della lotta per i diritti civili. Martin Luther King Jr. è stato un pastore protestante, attivista per i diritti civili e leader del Movimento per i diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti d'America. È stato una figura di spicco nella lotta contro la segregazione razziale e la discriminazione. E il suo impegno non violento ha contribuito a portare a significativi cambiamenti nella società americana. King nacque ad Atlanta, in Georgia, il 15 gennaio 1929. Suo padre era un pastore protestante e sua madre era un'insegnante. King si laureò in teologia al Morehouse College e in filosofia alla Boston University. Nel 1954 divenne pastore della Dexter Avenue Baptist Church di Montgomery, in Alabama. Nel 1955, Rosa Parks, un'attivista afroamericana, si rifiutò di cedere il suo posto sull'autobus a un uomo bianco. Questo gesto di disobbedienza civile scatenò un boicottaggio degli autobus di Montgomery che durò per 381 giorni. King guidò il boicottaggio, che alla fine portò all'abolizione della segregazione sui mezzi pubblici di Montgomery. Questo successo contribuì a lanciare la carriera di King come leader del Movimento per i diritti civili. Nel 1957, King fondò la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, un'organizzazione che ha guidato numerose proteste non violente contro la segregazione razziale. Tra le proteste più famose guidate da King ci furono la marcia su Washington nel 1963, dove King pronunciò il suo discorso a Have a Dream, e la marcia di Selma a Montgomery nel 1965, che portò all'approvazione del Voring Rights Act, una legge che ha garantito il diritto di voto agli afroamericani. L'impegno di King per la non-violenza fu un elemento fondamentale del suo successo. King credeva che la non-violenza fosse la via migliore per promuovere il cambiamento sociale. Nel suo discorso a Have a Dream, King disse, «Non siamo qui per fomentare l'odio. Non siamo qui per fomentare la violenza. Siamo qui per affermare l'amore». King fu un bersaglio frequente di minacce e violenze da parte dei suoi oppositori. Nel 1963, la sua casa a Birmingham, in Alabama, fu bombardata. Nel 1964, King fu arrestato per aver guidato una marcia non autorizzata a strada Augustine, in Florida. Nonostante le minacce e le difficoltà, King continuò a lottare per i diritti civili. Nel 1964, fu insignito del premio Nobel per la pace. King fu assassinato a Memphis, nel Tennessee, il 4 aprile 1968. Aveva 39 anni. La sua morte fu un evento tragico che scosse l'America. L'eredità di Martin Luther King è ancora viva oggi. Il suo impegno per la non-violenza e la giustizia sociale continua a ispirare persone di tutto il mondo. Il contributo di Martin Luther King al Movimento per i Diritti Civili Il contributo di Martin Luther King al Movimento per i Diritti Civili è stato immenso. King è stato un leader carismatico e visionario che ha guidato il movimento attraverso alcuni dei suoi momenti più difficili. King ha contribuito a cambiare la percezione della segregazione, razziale negli Stati Uniti. Ha dimostrato che la non-violenza poteva essere un'arma efficace per promuovere il cambiamento sociale. Il suo impegno per la giustizia e la uguaglianza ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Le idee di Martin Luther King Martin Luther King era un uomo di grandi idee. Era un sostenitore convinto della non-violenza, della giustizia sociale e dell'uguaglianza per tutti. King credeva che la non-violenza fosse la via migliore per promuovere il cambiamento sociale. La non-violenza, secondo King, è l'arma dei forti, non dei deboli. È un modo per mostrare il proprio disprezzo per l'ingiustizia senza usare la violenza. King credeva anche nella giustizia sociale. Era convinto che tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione o dalla classe sociale, abbiano diritto a giustizia e uguaglianza. King ha lasciato un'eredità di speranza e cambiamento. Le sue idee continuano a ispirare persone di tutto il mondo a lottare per un mondo più giusto e equo. Era un'eredità di speranza e cambiamento. Grazie.